Benvenuto in scelta del prodotto. In questo video discutiamo del migliori letti a castello. Ho fatto questa lista sulla base della mia ricerca personale e opinione, e ho cercato di registrarlo in base al suo prezzo, qualità, durata e altro ancora. Se vuoi vedere il prezzo e saperne di più su questo prodotti, puoi check out link qui sotto nella descrizione qui sotto. Al numero 4, abbiamo Alfred E.C., Lit Super Posay. Se non sai quale letto a castello scegliere e stai cercando un modello matrimoniale per tutta la famiglia allora puoi dare un'occhiata a questo prodotto di Alfred E.C. Il letto matrimoniale si trova nella parte inferiore, mentre un bambino può dormire troppo in quella superiore. È un ottimo servizio per una casa vacanza o una camera per gli ospiti. La scala inclinata con azioni piane si rivela molto pratica da utilizzare. Se apprezzi l'ambiente, ti farà piacere sapere che il legno utilizzato per la costruzione e la costruzione di questo letto a castello matrimoniale proviene da foreste sostenibili. Per scoprire quali sono i vantaggi e gli svantaggi di questo letto a castello matrimoniale. Al quinto posto, abbiamo la Avanti Trend Store, anche. Servizio economico ma davvero pratico e vantaggioso per arredare lo spazio di due ragazzi. Si apprezza per la stabilità e la cura nella scelta del legno, che comunica la sensazione di maneggiare un prodotto predestinato a durare nel tempo. Un po' in contrasto con questa longevità è senza dubbio il design, perfetto per la cameretta di due ragazzini ma non particolarmente adatto a quando iniziano a diventare adolescenti. Altro aspetto intrigante, il letto che si trova sopra ha una comoda sponda laterale che impedisce eventuali cadute dall'alto per salvaguardare chi vi dorme. La scala, che può essere installata a destra o a sinistra, ha una bella silhouette che si equilibra con il resto della struttura, di cui ad alcuni potrebbe non piacere l'eccessiva rigidità delle forme squadrate. L'altezza del letto superiore non è molto, quindi coloro che dormono elencati di seguito potrebbero scoprirlo eccessivamente incombente. L'articolo Avanti Trend Store viene consegnato smontato, le indicazioni sono tutto sommato facili da seguire, le viti sono costituite da doghe e materasso da letto vanno acquistati singolarmente. Al terzo posto, abbiamo la filo ben letto a castello bianco. La struttura di questo letto a castello è realizzata in acciaio verniciato a polveri e possidiche, con televisori a 20 e un diametro di 40 mm, che conferisce all'insieme una buona robustezza e resistenza. Per questo può essere utilizzato anche per ospitare due adulti, con una capacità per ogni letto di sostenere un peso di 120 kg. La sensazione, appena terminato l'assemblaggio, che non presenta particolari disagi, è quella di dover maneggiare un articolo così poco costoso ma comunque di qualità più che accettabile. Certo il letto traballa un po' se ci salgono dei bambini o se un adulto si arrampica su quello superiore ma la resistenza complessiva non è in dubbio. L'offerta di filo ben è ulteriormente apprezzata sia per la presenza di due doghe ortopediche con 14 listelli, sia perché nel prezzo sono compresi anche due materassi singoli realizzati in materiale con trattamento anallergico e con imbottitura termoregolante, così da poterli utilizzare per tutto. L'anno. Il prezzo richiesto, tutto sommato, è tra quelli finanziari che rendono la proposta particolarmente appetibile. Al numero 2, abbiamo il spazio casa divano letto a castello. Questo divano letto a castello è tra i prodotti molto apprezzati e apprezzati dagli utenti che lo hanno effettivamente acquistato. Dotato di una resistente struttura in ferro battuto e di una rete incorporata con 12 doghe in legno di faggio, questo divano letto a castello si dimostrerà incredibilmente comodo. Lo stile incredibilmente di classe lo rende adatto anche ad appartamenti o condomini o stanze arredate con un gusto specifico. L'articolo viene proposto in diversi colori selezionabili direttamente dalla pagina dello shop. Nel costo troverete composto dalla scaletta rimovibile e di sicurezza per il letto superiore, non però i cuscini e i materassi. Infine, il numero 1 nella nostra lista, abbiamo il night e dei letto a scomparsa. Un'opzione tutt'altro che secondaria rispetto alla necessità di arrivare in un'area dove evidentemente non sembrerebbe esserci. I due letti a castello possono essere ripiegati su se stessi e scomparire totalmente alla vista aderendo alla parete con la minima densità. Il pannello che li ricopre aggiunge un elemento d'arredo alla parete rendendola molto più interessante e piacevole. Puoi personalizzare l'effetto applicando poster, quadri o altri elementi utili. Attualmente è previsto un tavolino che permette di utilizzare quest'area anche durante la giornata quando i letti sono chiusi. All'occorrenza si può scegliere di aprire uno o entrambi i letti e poi utilizzare le postazioni necessarie a seconda della celebrazione. Entrambi i letti sono di dimensioni standard, abbastanza lunghi da ospitare un adulto. Puoi scegliere diverse varianti di arredo, con un materasso largo da 80 a 100 centimetri. L'unica precauzione è quella di scegliere un materasso da letto sottile abbinandone uno che possa svanire con la struttura una volta piegato.